Ciao Almo, come stai? Senti, oggi volevo parlarti di un libro. Un libro che sto rileggendo e che ho ripreso in seguito di un sogno. Il libro è questo, La storia di Elsa Morante. Ti volevo parlare non tanto della protagonista o della storia principale, ma di due personaggi che emergono un pochettino ad una lettura un po' più attenta, diciamo. I due personaggi sono Giuseppe e Eleonora, cioè il papà e la mamma di vita. Giuseppe chi è? È un insegnante. E Elsa Morante ce lo descrive come un uomo alto, corpulento, quindi contadino, reso inabile ai lavori, nei campi, ad altri tipi di lavori, in seguito di un incidente con la zappa. Viene descritto come un uomo molto combattuto, perché da un lato ci sono le sue idee anarchiche, lui ha letto pochissimi libri anarchici, però su questi ha fondato tutta la sua, diciamo, filosofia di vita, e non può parlarne con nessuno, perché in famiglia sono un tabù. A scuola, meno che mai, visto che ci muoviamo negli anni, diciamo, precedenti alla guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, quindi sono anni in cui le opinioni delle persone venivano controllate molto attentamente. Lui però su queste idee anarchiche ha fondato la sua fede ostinata. E che cosa fa, non potendo parlarne? Questo è il secondo aspetto che Elsa ci riporta di lui. Beve il vino. Ok, ci riporta un brano che io voglio leggerti perché è fantastico. Per lei, cioè per Ida, che a quel tempo era una bambina, quelle sere di sbornia erano pure delle sere di festa, perché il vino, nel vino, il padre, dopo aver sventolato le sue bandiere di rivolta, scioglieva in pieno il suo buon umore e la sua cultura di contadino. Le rifaceva tutte le voci degli animali e a sua richiesta le ripeteva fino a dieci volte canzoni e fiabi calapresi, volgendogli era il comico quando erano tragiche perché lei, come tutti i bambini, rideva volentieri e le sue risate pazzierielle erano una musica in famiglia. È bellissimo, è vero, le risate di un bimbo sono musica in famiglia perché sanno davvero riportare l'allegria e il buon umore. Anche le tue, Olmo, sono così, te lo assicuro. Il papà di Ida però muore tragicamente. Giuseppe, ad un certo punto della storia, si mette a frequentare un'osteria in cui circolano delle idee sovversive, anarchiche, che lo porteranno a perdere il lavoro e a morire di cirrosi nel 1936. Il secondo personaggio è Eleonora. Eleonora è la moglie di Giuseppe. Ha un segreto inconfessabile, cioè quello di essere ebrea. È un segreto che nasconde perfino a se stessa, per paura di ritorsioni da parte del mondo. Lei stessa confida alla bambina che gli ebrei sono un popolo predestinato dall'eternità dell'odio vendicativo di tutti gli altri popoli. Quindi assolutamente non bisogna essere ebrei. E fa battezzare sua figlia Ida con cerimonia religiosa cristiana e cattolica, pur di rinnegare questa sua appartenenza. Ad un certo punto però Nora si fa stizzosa ed esasperata, non tanto per la morte di Giuseppe, per la morte del marito, quanto perché sente in giro che è stata diffusa la notizia di un imminente censimento di tutti gli ebrei d'Italia, con obbligo di denuncia personale. Nora impazzisce perché questa denuncia personale va proprio a contrastare il suo segreto, che lei non vuole che il mondo sappia, forse vorrebbe nasconderlo perfino a se stessa. E così non esce più di casa, spegne la radio, non va più a fare la spesa e incomincia a vivere una specie di delirio in cui si convince che il censimento è già stato fatto e che lei, presto, sarà chiamata a rispondere di questo suo, diciamo, del fatto che non si sia presentata, ecco, mettiamola così, in tempo per il censimento. È diventata una fuorilegge, si sente una fuorilegge. Incomincia a sentire dei rubori per le scale, i fiati dei militari, dei poliziotti che arrivano a chiedere appunto il rendiconto di questa sua trasgressione. E allora cosa fa? È combattutissima, vuole scappare, ma dove può andare? Parigi, Londra, sono città troppo cosmopolite, troppo grandi per lei, che è una donna ormai di 58 anni e passa, non può andarsene da sola, e si convince di poter tornare in Palestina. Perché la Palestina? Perché è la patria, evidentemente, degli ebrei, ed è l'unica patria degli ebrei. Così, una sera, prende il vecchio mantello del marito, con 3000 lire, che erano tutti i suoi risparmi legati nelle calze, e se ne va. Viene ritrovata morta, affogata e arriva al mare, dove sperava nel suo delirio di imbarcarsi per la Palestina. Forse, ci dice la morante, ha perso l'orientamento, forse credeva di navigare in un campo di grano, in un mare di grandi. Però il mare non è stato violento con lei, anzi, quasi l'ha ringiovanita, l'ha fatta sembrare più magra, i capelli hanno ripreso colore, i garofani, perfino, che ha stampato sul vestitino di seta, sono, diciamo, più evidenti, si sono fatti, come dire, e sono risaltati. Ora, perché ti parlo di questo? Perché noi adesso, in questo momento, noi stiamo affrontando, attraversando un periodo storico molto complicato, quello legato all'emergenza del Covid, un periodo storico in cui, anche se non ce ne rendiamo perfettamente conto, sta modificando gli assetti della nostra vita. Perché questo è il messaggio che ci dice il Samorante. La storia è presente senza mai essere nominata. Questo ci dice la storia di Giuseppe e la storia di Eleonora. Che la storia ci sobrasta e influenza il nostro modo di vivere, le nostre decisioni, il nostro modo di relazionarci con il mondo. Ci immerge praticamente. E spesso ci uccide anche. Perché pensa al padre, pensa a Giuseppe, di cosa è morto? Di cirrosi epatica. Ok, è morto perché beveva. Ma perché beveva? Perché lui aveva delle idee che la storia non riconosceva. E quindi le sue idee dovevano essere in qualche modo affogate dentro l'alcol. E pensiamo a Eleonora perché è morta. È morta di paura, fondamentalmente. La storia l'ha spaventata talmente tanto che lei, piccola, non è riuscita a reggere questo confronto. Questa è la lezione, secondo me, più bella di questo libro. Perlomeno quella che io colgo oggi e che ho voluto riportarti. Se ancora non l'hai letto, fallo. Oppure, quando vorrei farlo, ricordati di venire a questo video così possiamo in qualche modo parlarne insieme, anche se a distanza nel tempo. Un abbraccio, Ormo. Ciao. Grazie a tutti.